Aspetta un secondo... Chiamami e chiamami su un bambino. Chiamami? Chiamami? Sto guardando il bambino? Quando ha finito ci sta guardando. Va bene. Va bene, dai! Tira, tira! No! 45 le hai. D Focus! I lotta. Grun zía to jo nation cooked. I tu no piens! Itu trialsiniere. I tu ti anche reci�. D הזque r Давай lì! Cio center! Grazie